Oggi è martedì, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, gara ufficiale riservata alla categoria Esordienti a 9, quindi vedete che il campo è ridotto. Da questo lato ci sono i ragazzi della Mircus Castelfrentano, i ragazzi del 2006, il mister Simone Giordano sta effettuando gli esercizi di riscaldamento prima della gara, la giornata è nuvolosa, tira uno sgradevole vento, fa freschetto, per questo i ragazzi si devono riscaldare. Da quest'altro lato invece c'è la Virtus Ortona, la Virtus Ortona che anche loro sono entrati adesso in campo e si riscaldano, indossano la divisa giallo-verde, c'è il loro mister, si stanno riscaldando, esercizi di riscaldamento, disposti dal mister, fa freschetto, i ragazzi sono venuti da Ortona, il tempo di uscire da scuola, di fare un veloce pasto e subito sono venuti qua a Castelfrentano. I ragazzi stanno a posto, la nuova fase di riscaldamento, pure qua c'è il mister Giordano Simone, c'è anche il mister Roberto Verna, c'è il giampiero, c'è il giampiero, c'è il giampiero, c'è il giampiero. Ecco, si riscaldano, le porte sono ridotte, il campo è ridotto come da regolamento, albiterà, dirigerà l'incontro, il sottoscritto, il Cavaliere Carlo Iocco, vicepresidente, conosciuto, meglio conosciuto come Zio Carlo.